Il gas e metano in Sicilia è stato gestito dagli amici dei mafiosi e quanto emerge da un'indagine della Guardia di Finanza che ha messo in amministrazione controllata anche la Italgas S.P.A. Sbloccati i cantieri di lavoro in Sicilia daranno una boccata d'ossigeno a persone disoccupate, Castellammare, tre paesi dove i cantieri sono stati finanziati. Partinico è la sua piazza Duomo che secondo il sindaco è la cartina di tornasole del paese, una cartina di tornasole però a dir poco strana. Dal rilancio del terzo settore passa quello dell'Italia, lo ha dichiarato Davide Faraona ad un convegno organizzato dal PD di Partinico. Ritorna il rally a Partinico, domenica si corre il primo rally dei Terre di Bacco. Buonasera e bentrovati a Studio TV7, oggi è sabato 12 luglio. Iniziamo parlando di infiltrazioni mafiose riscontrate nel settore della metanizzazione in Sicilia ma anche in altre regioni d'Italia. La Guardia di Finanza ha messo in amministrazione controllata un'altra importante complesso aziendale che si è occupata negli anni di gas e metano. La Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito un provvedimento con cui è stata disposta l'amministrazione giudiziaria della società Italgas S.p.a. con sede a Torino, azienda operante nel settore della gestione e dei servizi connessi alla distribuzione del gas e metano sul territorio nazionale. L'operazione si collega ai provvedimenti emanati nello scorso mese di maggio con cui è stata disposta la sospensione dell'amministrazione di tre importanti realtà imprenditoriali, la Gas Natural Distribuzione Italia con sede a Bari, la Gas Natural Vendita Italia e la Gas Natural Italia, entrambe con sede a San Donato Milanese, vicino Milano, operanti nel settore della vendita e distribuzione del gas e metano sul territorio nazionale. Non chiede la CRM di Curatola Alfredo, società di manutenzione con sede a Crotone. Nello stesso contesto investigativo la Guardia di Finanza di Palermo, sotto il coordinamento della locale direzione distrettuale antimafia, aveva eseguito circa un anno fa il sequestro di un patrimonio del valore complessivo di oltre 50 milioni di euro nei confronti del gruppo imprenditoriale di Palermo che ha curato tra gli anni 80 e 90 la metanizzazione di diverse aree del territorio siciliano. Le indagini si erano concentrate in primo luogo sulla genesi del gruppo palermitano costituito negli anni 80 da Ezio Ruggerio Maria Brancato e che, se dipendente della regione Sicilia, successivamente è diventato imprenditore grazie all'investimento di ingenti risorse finanziarie di dubbia provenienza che si è presto sviluppato con la protezione di Cosa Nostra e di appoggi politici, in particolare dell'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, arrivando ad ottenere ben 72 concessioni per la metanizzazione della Sicilia e dell'Abruzzo. Le indagini avevano in particolare fatto emergere come i lavori di realizzazione della rete del gas siano state in più occasione affidati in subappalto ad imprese riconducibili a soggetti con procedenti specifici per mafia ed altre ritenute vicine alla criminalità organizzata in una logica di costante reciproco vantaggio tra il gruppo e l'organizzazione criminale. Sulla base dei riscontri effettuati nel dicembre 2013, il Tribunale di Palermo aveva disposto un ulteriore sequestro per un valore di circa 7 milioni e mezzo di euro di quattro società nei confronti della famiglia di imprenditori Cavallotti di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, operanti da diversi anni nel settore edilizio e della manutenzione delle reti di gas e metano. Dallo sviluppo di tutti questi filoni investigativi è emerso che l'impresa oggetto dell'odierna misura la società italiana Italgas S.p.a. avrebbe agevolato imprenditori già sottoposti ad indagini di polizia giudiziaria e misure di prevenzione ai sensi della normativa antimafia, in alcuni casi consentendo a questi soggetti di continuare a consolidare la propria espansione in alcune regioni della penisola nel settore del gas e metano. Quindi, al fine di inibire la strumentalizzazione ad opera della criminalità organizzata, il Tribunale di Palermo ha di fatto sollevato dalla gestione i rappresentanti della società italiana Italgas per un periodo di sei mesi. L'azienda dovrà temporaneamente cedere la gestione agli amministratori giudiziari ponendosi sotto tutela dell'autorità giudiziaria, la quale, al termine del periodo, valuterà la sussistenza dei presupposti per restituire o meno la gestione bonificata dalle presunte criticità riscontrate, ovvero procedere a conseguente sequestro ai fini della confisca. Si tratta, in definitiva, di una misura preventiva antimafia che colpisce le aziende che, pur non potendosi considerare mafiose, risultano aver subito un'influenza da parte di soggetti contigui a Cosa Nostra che è valsa a rafforzarne la presenza economica sul territorio. E adesso parliamo di ladri di auto scoperti da una coppia di ladri in enflagganta mentre stava rubando da diverse auto parcheggiate sul lungomare della spiaggia Playa di Castellammare del Golfo. Giovedì scorso, intorno alle 15, una coppia di ladri palermitani in trasferta a Castellammare del Golfo, credendo di non essere osservata, ha iniziato ad aprire le macchine parcheggiate e lasciate incustodite sul lungomare Playa, asportando gli oggetti di valore e le valigie che qualche nero turista aveva lasciato in auto. Ma sul lungomare c'era anche una coppia di carabinieri in borghese nella stazione di Castellammare del Golfo, impegnati proprio nel servizio di contrasto ai reati predatori. I militari dell'arma, facendo finta di non essersi accorto di ciò che l'anomala coppia di vacanzieri stava facendo, hanno proseguito il loro cammino e si sono appostati in una zona defilata per osservare e comprendere esattamente cosa i due stessero facendo. Avendo avuto la contezza del furto in atto, dopo aver richiesto il supporto dei colleghi in uniforme, i due militari hanno bloccato prima l'uomo e poi la donna che con fradezza, vedendo il compagno fermato dai due uomini, ha pensato di farle finta di nulla andandose con una valigia trolle in mano in direzione della propria auto. Bloccato il primo ladro, uno dei due militari ha rincorso la donna e l'ha fermata poco prima che riuscisse a salire sulla propria auto per darsi alla fuga. Quando sono sopra giunte le vetture a supporto, i militari hanno caricato in auto i due fermati ed hanno proceduto a perquisire la macchina dai due ladri, trovando soldi contanti, oggetti di valore tra i quali un paio di tablet, alcuni cellulari, numerosi capi di abbigliamento ed alcune valigie ancora con l'etichetta del viaggio aereo. Le verifiche lungo l'affollata strada della playa hanno permesso di accertare che almeno quattro macchine erano state aperte e svuotate dai beni di valore, dai due pregiudicati. Una volta in caserma, i militari hanno identificato la coppia in Nicola Spinnato, 42 anni, nato a Cantuma, residente a Palermo, e Maria Nuccio, palermitana di 40 anni, entrambi pregiudicati. Anche l'auto usata da due ladri era stata rubata alcuni giorni prima a Balestrate. Nel cofro della macchina, occultati dentro una normale borsa da spiaggia, sono stati trovati grimaldelli, cacciaviti ed un coltello a serramanico del tipo proibito. L'uomo, gravato da numerosi e specifici reati, è stato tradotto presso il carcere di Trapani. La donna, anche lei pregiudicata, ma per reati attinenti a stupefacenti, è stata invece sottoposta all'obbligo di dimora nel comune di residenza. Prosegue l'attività della Digos per far chiarezza sulle manifestazioni dei PIP che hanno portato all'arresto di tre persone, ci sono alcuni video interessanti e continua questa attività di indagine capillare. Prosegue l'attività della Digos volta a perseguire penalmente gli autori di episodi di violenza verificatisi durante la manifestazione di protesta del 24 maggio 2013 dei lavoratori facenti parte del bacino dei ex PIP a Piazza Indipendenza a Palermo, nel corso della quale sono stati commessi gravi delitti. Al termine di una complessa indagine della sezione investigativa informativa della Digos sono state effettuate nove perquisizioni domiciliari. Agli indagati sono state anche notificate informazioni di garanzia in relazione alla commissione del reato di resistenza pubblico ufficiale pluriaggravata. In particolare sono state identificate otto persone appartenenti al gruppo di Facino Rosi che nel corso della manifestazione se ne hanno resi responsabili di una serie di gravi atti di violenza nei confronti delle forze dell'ordine. Si tratta di Francesco Scalia, 44enne, Salvatore Vassallo, 59enne, Michele Saccomando, 35enne, Gianni Lamattina, 38enne, Maurizio Tutone, 39enne, Guilamo Terranova, 41enne, Giovanni Ceramitaro, 40enne e Giovanni Rauv, 52enne. Durante lo svolgimento della manifestazione di piazza furono lanciate pietre, rami d'albero, segnaletica stradale, caschi da motociclista alle forze dell'ordine. Grazie al materiale videofotografico acquisito è stato possibile infatti individuare otto persone. Va però evidenziato, concludono dalla Questura, come la quasi totalità delle pubbliche manifestazioni si svolgano quotidianamente nel rispetto dei valori costituzionali in modo assolutamente pacifico. Conseguentemente solo le sparute minoranze irrispettose dei diritti altrui, soprattutto di quelli di chi manifesta legittimamente, sono state oggetto di indagine. Martedì scorso erano stati arrestati altri tre dipendenti della GESIP. Parliamo di lavoro perché sono stati sbloccati fondi regionali per iniziare i cantieri di lavoro che daranno una boccata d'ossigeno a tanti disoccupati, anche se per un periodo limitato, ma è comunque un segnale. Non esiste nessun allarme né particolare ritardo sui cantieri di lavoro. Ieri sono stati sbloccati i primi finanziamenti, i cantieri di servizio in Sicilia possono partire. La regione siciliana smentisce le voci, circa uno stop ai cantieri. Il presidente Crocetta ha sentito il dipartimento dell'assessorato alla famiglia che sembra gli abbia assicurato che già da ieri è stata sbloccata la situazione relativa ai primi finanziamenti sulla base dei progetti già presentati. Crocetta attende le integrazioni dei comuni, così come richiesto più volte dal dipartimento al lavoro. I progetti per i quali si è completata a partire da oggi la procedura riguardano complessivamente 12 milioni di euro. I lavoratori coinvolti sono già 4.506 nelle nuove province con finanziamenti già erogati per circa 12 milioni di euro sui 50 milioni impegnati. A Palermo 1.706 mila per 667 persone, a Trapani 781 mila per 290 persone. A fare la parte del Leone la provincia di Catania con 967 persone impegnate per un finanziamento di 2.492 mila euro. I impegni finanziari successivi verranno assunti man mano che arriverà la documentazione completa dei singoli comuni. In ogni caso l'aspetto più importante è che i progetti siano già in partenza e che possano immediatamente essere attivati. Già domani l'assessorato al lavoro pubblicherà sul sito i progetti finanziati per singolo comune. Tra i paesi che usufruiscono già in prima battuta di questi cantieri di lavoro c'è Castellammare del Golfo. Sono tre i progetti comunali nel primo decreto finanziati dalla regione. Partono i cantieri di servizio nel comune di Castellammare del Golfo. Nel primo decreto di finanziamento sbloccato dalla regione Castellammare ha ottenuto circa 142 mila euro per i tre progetti presentati. Al momento sono stati finanziati solo i progetti già integralmente documentati così come quelli presentati dal comune di Castellammare. La priorità in questa prima tranche di finanziamenti regionali è stata data proprio a chi è stato puntuale nel presentare la documentazione richiesta. In dettaglio i cantieri di servizio che saranno adesso avviati a Castellammare e che dureranno tre mesi riguardano i disoccupati da 18 a 65 anni. Sono servizi di pitturazione, ringhiere per miglioramento del decoro urbano per un importo di 56.107 euro, manutenzione strada e marciapiedi per 45.500 euro, manutenzione del verde pubblico cittadino per 40.500 euro. Lo scopo dei progetti è quello di alleviare la condizione di crisi economica in cui versano molte famiglie di Castellammare e pur se provvisoria si tratta di una concreta possibilità lavorativa che consente anche di riqualificare strada e marciapiedi, oltre che il verde cittadino. Da Castellammare spostiamoci a Partinico. Abbiamo fatto un servizio su Piazza Duomo perché qualche mese fa siamo stati chiamati, Piazza Duomo doveva cambiare secondo quanto allora dichiarato il sindaco e i suoi amministratori, siamo tornati dopo tre mesi e abbiamo constatato quello che adesso vedrete nel servizio. Lo scorso 24 marzo la stampa è stata convocata qui in piazza per un evento dal punto di vista amministrativo storico, la chiusura della piazza che è stata da tanto tempo un parcheggio per auto. C'era il sindaco, c'erano tutti gli assessori tranne Diego Campione e ci venne presentato il progetto, eliminare il parcheggio e fare del centro della piazza la gorà di Partinico con piante, con panchine e quindi rendere bello questo posto. Un'idea indubbiamente positiva, pregevole da divulgare con le telecamere per far vedere che a Partinico l'aggiunta ha le idee chiare dal punto di vista del decoro urbano. Noi per essere più precisi andiamo a riascoltare quanto allora ci ha detto il sindaco ma anche uno degli assessori. Abbiamo anche qualche panchina, le piante, c'è la collaborazione anche delle attività commerciali per abbellire questo, quella sinergia tra pubblico e privato che è importante per migliorare questa città. Anche perché penso che in tutte le città d'Italia e in tutte le città civile non esistono parcheggi all'interno della piazza principale della città. Il nostro obiettivo è sicuramente questo, valorizzare questa zona, valorizzare la piazza ma anche le strade che confluiscono qua in piazza stesso che sicuramente hanno bisogno di particolare attenzione. Avete sentito piante, fiori, panchine, deve essere un posto bello. Oggi sono trascorsi dal 24 marzo quasi quattro mesi, per esattezza tre mesi e mezzo. È il momento in cui ritornano gli emigrati a parte di Nico, nel momento in cui ci sono gli sconti e con i negozi aperti viene tanta gente da fuori e la piazza è in queste condizioni. Oggi a distanza di tre mesi e mezzo da quel 24 marzo stiamo constatando con le delle camere che la situazione non è per nulla migliorata, anzi è peggiorata perché prima almeno c'era un parcheggio, adesso c'è il nulla. E allora mi chiedo, è più logico fare delle promesse e poi non mantenerle? O dire guardate io non ho soldi, non ho idee, non ho inventive e quindi non so cosa fare. Credo che la gente apprezzi di più la lealtà e la coerenza e non le dichiarazioni magari fatte con buona volontà ma che poi sembrano assolutamente proclami elettorali. Torniamo indietro di tre mesi e mezzo perché il sindaco allora ha detto una cosa sacrosanta, ascoltiamolo. Perché poi è la cartina tornasole della città, la piazza e quindi... Ha ragione, la piazza è la cartina tornasole dei paesi, evidentemente la cartina tornasole di Partinico è questa di qua. Noi continueremo a fare il nostro lavoro perché se ci chiamano per dirvi e parlarvi di informazioni di realtà che poi non sono attinenti alla realtà è il nostro dovere così come corriamo quando ci chiamano gli amministratori poi verificare se di fatto quello che ci hanno fatto dire viene realizzato. Quindi continueremo in questo giro per il paese ma non solo di Partinico così come faremo anche in altre realtà del territorio. A proposito di Partinico, si è svolta ieri mattina presso il Comune una riunione per l'organizzazione della Stata partinicese. erano presenti i rappresentanti di alcune associazioni. L'amministrazione ha messo sul tavolo soltanto la disponibilità di 12 mila euro. Pertanto si prospetta un'estate povera di avvenimenti. Se non entreranno in gioco le assunzioni in modo volontario, i commercianti con un loro contributo economico non si potrà fare nulla. Sembra difficile la riproposizione del modello dello scorso anno in cui diversi giovani collaborarono con l'allora assessore Silvia Ferro organizzando un cartellone di tutto rispetto. Si ripropone il pressappochismo e la mancanza di progettualità che ha caratterizzato l'intera esperienza amministrativa lobby undiana. Questo lo leggiamo dalla pagina Facebook Partinico e News perché la nostra emittente probabilmente appare scomoda e non è invitata alle riunioni del Comune di Partinico. Noi comunque cerchiamo di apprendere da altre fonti e di rendervi conto di quanto fa l'amministrazione di Partinico. Adesso parliamo di politica. Ieri ad un convegno organizzato dall'EPD è intervenuto l'onorevole Davide Faraone, responsabile del welfare del governo italiano, che ha detto che dal terzo settore può ripartire il rilancio dell'Italia e di conseguenza anche della nostra regione. Davide, ma come può essere riformato il terzo settore? Intanto bisogna rimettere in circuito il servizio civile che è uno straordinario strumento che in questi anni è stato ridotto all'osso e invece noi lo rilanciamo pensandolo per centomila giovani. Dopodiché bisogna riformare il terzo settore inquadrandolo dentro una riforma complessiva dello Stato sociale di cui stiamo discutendo in questo momento su proposta del governo legge delega presente il Senato su un tema che riguarda il lavoro dei giovani ma al tempo stesso la flessibilità e quando si perde il lavoro ci deve essere la possibilità per questi giovani di essere formati e di avere un reddito. Questa è una modalità che ci stiamo sforzando di mettere in circuito su un modello che è quello scandinavo, che è quello della Flex Security e naturalmente la riforma del terzo settore è dentro questo schema di qui perché è chiaro che tutte le questioni che riguardano lo Stato sociale e il terzo settore in genere riguardano la vita di una persona dall'inizio fino alla fine. Noi siamo in una regione, in una città Palermo dove il terzo settore e formazione hanno creato la nostra storia più brutta. Spesse volte abbiamo ascoltato lo sfogo di tanta gente abbandonata a Palermo ma non solo in tutta la sua provincia. Partendo dalla tua esperienza puoi dare un concreto aiuto a Renzi e quindi a tutta la squadra? Noi dobbiamo intanto azzerare tutto ciò che va male in Sicilia e però non essere assolutamente rassegnati con l'atteggiamento di chi pensa che meglio non può andare. Il modello Bolzano, il modello della Germania, questo del sistema duale in cui c'è la formazione, l'apprendistato, la possibilità per lavorare e al tempo stesso studiare è un modello che qui può essere trapiantato se ne ha la volontà. Ci sono tutte le condizioni di poterlo fare. Noi pensiamo addirittura di applicare quel modello in tutta Europa sfruttando il semestre a guida italiana con Matteo Renzi. I tempi potrebbero essere così brevi? Io credo che abbiamo ora delle risorse comunitarie da poter investire in questa direzione. Se non ci sono le risorse comunitarie quel modello lì non lo puoi applicare almeno come start-up. Quindi dobbiamo immediatamente utilizzare quelle risorse per immettere in Sicilia un modello di formazione che guardi i ragazzi disoccupati e non guardi all'essere assistiti di docenti che magari non hanno mai fatti i docenti ma percepivano un'indennità a prescindere. Per cui da questo punto di vista bisogna avere fiducia ed essere coerenti con quello che nazionalmente sta facendo Renzi con la stessa velocità e con la stessa determinazione. Quanto possono essere importanti gli enti locali per questa sorta di riforma? Gli enti locali così come le forze produttive sono indispensabili perché è chiaro che la formazione funziona se c'è una richiesta rispetto ad un settore produttivo e quindi la formazione è indirizzata a formare risorse che vanno in quella direzione e le forze produttive e le forze sociali hanno un ruolo importante da questo punto di vista. Ascoltiamo adesso il segretario del PD di Partinico che fa il punto sul convegno di ieri anche in virtù delle discussioni non del tutto amichevoli avute all'interno del partito stesso. Un convegno che io ritengo riuscito soprattutto per la tematica che abbiamo affrontato che nonostante si parli di riforma del terzo settore in realtà è un settore di primaria importanza. Di primaria importanza perché vede proprio l'operato di persone che operano in silenzio quotidianamente e che si spendono proprio per migliorare la vita di tutti. Partire da Partinico con questo convegno con la presenza dell'onorevole Faraone che è responsabile del welfare della segreteria nazionale del PD significa dare quel segno di voler cambiare la situazione partinicese proprio a partire da quello che è l'impegno sociale. Questo credo che sia l'elemento forte di positività ma che deve essere coniugato soprattutto con un rilancio che l'amministrazione deve fare proprio a partire dai diversi settori compreso questo che è un settore prioritario. Abbiamo avuto l'impressione partecipando al convegno che c'era area di separati in casa tra di voi e dello stesso partito. Com'è andata da questo punto di vista? Ma io voglio leggere un aspetto molto positivo. La presenza del sindaco che è arrivato al convegno sin dall'inizio, è rimasto fino alla fine dei lavori con interesse e partecipazione e voglio leggerlo in positività nel senso di una sua predisposizione a voler porsi in maniera propositiva e quindi aprirsi anche alla cittadinanza verso un interesse, verso questo settore e verso la risoluzione delle problematiche ad essa connesse. Può essere un primo, anche se timido, passo verso l'unità del partito? Io ho una visione sempre che va verso l'unità. Il lavoro fatto con questo incontro proprio si lega a quella volontà di voler mettere insieme tutte le cosiddette anime e volerle anzi non chiamare più così ma parlare di un partito unito che lavora per i problemi della gente, che lavora per migliorare la qualità della vita dei partinicesi. Dunque secondo me questo convegno deve essere eletto proprio come un primo incontro di tante possibili attività di lavoro che il partito vuole continuare a portare avanti e che già avevo anticipato io precedentemente in altri comunicati, appunto dei gruppi di lavoro che lavorano su tematiche e che poi si vedono uniti in un momento comune, quale la conferenza programmatica, in cui sia il partito che l'amministrazione non si guardino in posizioni contrapposte ma guardino insieme all'unisono in sinergia verso la città per migliorarla. Incontro sindacati regione sull'asta azienda siciliana trasporto pubblico a Crocetta è stato chiesto l'immediato rilancio dell'azienda. Garantire i 28 milioni di euro al posto dei 19 annunciati come contributo 2014 insufficienti per la sopravvivenza dell'aste. Chiudere subito la trattativa regione-azienda sul pregresso quantificando l'importo che spetta l'azienda siciliana trasporti come compensazione per gli iniqui importi del contratto di servizio applicati nel passato. Somme da destinare al rinnovo del parco mezzi per sostituire i bus ormai obsoleti. Sono alcune delle proposte sul futuro e per la sopravvivenza dell'aste lanciate dai sindacati Fit Cisle, Fit CGL, Will Trasporti, UGL, Cisale e Cobas Sicilia durante l'incontro con il presidente della regione Crocetta sulla vertenza dell'aste. I sindacati hanno chiesto al governatore anche l'aumento del compenso a chilometro dei contratti a partire dal 2015. Di rivedere poi tutte le concessioni del trasporto pubblico locale evitando dunque prorove alle attuali concessioni a privati e di affidare all'aste invece che a Trenitalia i chilometri cosiddetti gommati su strada. La dirigenza dell'aste deve essere coinvolta nella fase di contrattazione dei nuovi contratti dopo il 2015 e soprattutto nello studio del nuovo piano regionale dei trasporti. Il presidente Crocetta ha garantito l'impegno della regione affinché l'aste, che negli anni è stata sempre penalizzata, venga posta al centro di un programma di rilancio che parta dall'acquisto del parco mezzi attraverso un finanziamento IRFIS. Nelle prossime settimane si terrà un tavolo per discutere dei prossimi passi dell'avvertenza, alla regione, alla presenza dei vertici aziendali e dall'assessorato ai trasporti. I lavoratori sono stanchi di vivere ogni mese l'incertezza sullo stipendio, così come incerto è il loro futuro posto di lavoro. adesso pretendono risposte certe. Riprendiamo con una notizia che indubbiamente è curiosa, che non ci fa piacere. Dall'analisi delle prove invalsi, che sono delle prove di esami fatte uniche per tutta l'Italia a scuola, risulta che gli studenti siciliani sono i più somarelli d'Italia. La Sicilia ha i liceali più somari d'Italia, almeno un italiano, è il responso dell'ultima rilevazione nazionale degli apprendimenti condotta dall'invalsi. Anche se gli alunni dell'isola stanno leggermente accorciando il divario che li separa dai coetanei e delle altre regioni, non riescono comunque a sfilarsi di dosso alla maglia nera che li relega all'ultimo posto in classifica. Su sei degli otto ambiti presi in considerazione dall'Istituto di Frascati, italiano e matematica in quattro classi, seconda e quinta primaria, terza media e secondo anno delle scuole superiori, la Sicilia figura all'ultimo posto e nei rimanenti due contesti ci piazziamo al penultimo posto. Fissata la media nazionale a quota 200 punti per tutte le classi, siamo all'ultimo posto in italiano e matematica in seconda elementare con 193 e 194 punti e rimaniamo all'ultimo posto anche in quinta elementare con 186 punti in italiano e 189 in matematica. I 31 punti di differenza in matematica fra i ragazzini di terza media siciliani e coetanei friulani dovrebbero costringere i responsabili della scuola isolana a riflettere. L'unica buona notizia è che rispetto al 2013, quando i punti che separavano i due gruppi di studenti erano di 45 punti, il fossato si è ristretto. Ma non c'è molto da stare allegri perché i liceali siciliani si confermano i meno attrezzati del bel paese, almeno in italiano. I ragazzi siciliani, destinati a diventare classi dirigenti di domani, non riescono ad andare infatti in italiano oltre i 198 punti, contro una media nazionale che si attesta attorno ai 212 punti. A proposito di scuole, buone notizie che arrivano da Castellammare del Golfo perché arrivano i finanziamenti per le scuole. Arrivano i finanziamenti al Comune di Castellammare, oltre 590 mila euro per le scuole. Si tratta del piano di edilizia scolastica, annunciato e adesso avviato dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che riguarda interventi di decoro e messa in sicurezza delle scuole. A Castellammare il finanziamento riguarda due interventi, rispettivamente di 240 mila euro e 195 mila euro per il progetto Scuole Sicure e 12 minori finanziamenti per il progetto Scuole Belle. Ricordo che la messa in sicurezza delle scuole è praticamente avviata per tutti gli edifici perché i progetti già finanziati riguardano il plesso Crispi con circa 300 mila euro finanziati con il decreto del fare, la scuola Mignosi e la scuola di Balata di Baida con un progetto finanziato con delibera Cipe e pari a circa 194 mila euro, ha commentato l'assessore Salvo Bologna. Inoltre tre progetti finanziati saranno gestiti direttamente dagli istituti scolastici le scuole Pascoli e Pirandello, 345 mila euro e stessa cifra per il plesso Verga e la scuola P3. Il progetto della scuola P3 è stato redatto in convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, provveditorato alle opere pubbliche Sicilia-Calabria, settore tecnico provinciale di Trapani, che svolgerà le funzioni di stazione appaltante. Parliamo di economia perché secondo la CISL la Sicilia rischia il default, serve investire e razionalizzare la spesa e l'allarme lanciato dal segretario Raffaele Bonanni durante l'assemblea dei quadri dirigenti del sindacato ai cantieri culturali della ZISA. Non ha usato mezzi termini il segretario generale CISL per definire la situazione della nostra regione nell'attuale comparto economico. Se non si faranno a breve termine investimenti e se non si rilancerà subito l'economia ristrutturando la spesa, si va dritti verso il default perché la regione consuma e non produce. Raffaele Bonanni ha così rilanciato il patto per lo sviluppo del sindacato siciliano. Per produrre si deve creare occupazione e per occupare le persone bisogna attrarre investimenti e per farlo occorre riorganizzare l'economia che è disorganizzata. La ricetta, la CISL, la ribadisce da tempo. Occuparsi dei territori e della loro riorganizzazione perché i posti di lavoro si avranno quando gli investitori italiani e stranieri sceglieranno la Sicilia. La classe dirigente siciliana deve pensare solo a questo e il governo centrale deve sostenere iniziative di questo tipo. La CISL si pone come imperativa aiutare chiunque abbia voglia davvero di ricominciare. Bisogna aggredire i veri nodi che inducono i giovani ad andare all'estero e che fanno disperare quanti avevano il lavoro e lo hanno perso. Il segretario generale della CISL è intervenuto pure sulla riforma nazionale della pubblica amministrazione sottolineando che concettualmente è bello avvicinare alla pubblica amministrazione i cittadini ma farlo concretamente è molto difficile soprattutto se non ci si rende conto che nelle regioni si spendono soldi e si produce corruzione e quindi vanno riformate e che bisogna ridurre le municipalizzate e le stazioni appaltanti che raggiungono numeri non più tollerabili. Se in Italia non si parte dalla riforma della pubblica amministrazione tutto il resto diventa inutile. Nell'ambito della settimana di festeggiamenti di Borgo Parrini ieri sera si è svolto un incontro sulla storia del territorio e sulla Madonna del Ponte. Una tavola rotonda con testimonianze inerenti al Borgo Parrini e dal culto della Madonna del Ponte si è svolta ieri sera all'interno della chiesa Maria Santissima dei Miracoli dove in questi giorni è esposto il quadro della Madonna del Ponte. È intervenuto il professor Leonardo D'Azaro, storico e grande appassionato di tradizioni che ha ripercorso la storia del territorio evidenziando le tante positività di Partinico quasi del tutto sconosciute. Gli interventi sono stati moderati da padre Salvatore Gianporcaro, anche lui grande appassionato di storie e tradizioni. Padre Gianporcaro sono quasi le undici e mezza però non ci siamo annoiati perché abbiamo appreso cose interessanti insomma riscoprire le proprie origini, la propria storia. Credo che si faccia poco a Partinico e questa è stata una salata interessante anche per questo. Sì, purtroppo devo condividere, si fa poco a Partinico per conoscere le origini del proprio paese, le origini storiche e religiose del proprio paese. Una delle realtà da conoscere dovrebbe essere soprattutto la storia civile e religiosa. La storia civile di Partinico nasce con i normanni quando sono venuti a Partinico, ecco nella restaurazione della cittadina di Partinico e poi si comincia poco a poco a svilupparsi con la presenza degli spagnoli, dei francesi eccetera. La storia religiosa di Partinico soprattutto nasce attorno al santuario della Madonna del Ponte, voluto da Federico II, spagnolo, catalano, aragonese, voluto da Federico II con la venuta dei monaci di Altofonte, ci sessenti di Altofonte che portarono il culto a della Madonna del Ponte. Padre Gian Porcaro, in queste rare occasioni di momenti culturali di Partinico che parlano di storia dove sarà una casualità male e sempre presente, apprendiamo che Partinico non ha solo un passato fatto di malavita, ma anzi ha un grande passato culturale che purtroppo stentiamo a rivalorizzare. e addirittura di Partinico ne parla Cicerone dicendo che Partinico era una stazione di cavalli, cioè il cambio di cavalli, ecco si arrivava a Partinico e si cambiavano i cavalli per arrivare a Marsalo, per arrivare a Trapane. Naturalmente come tutte le altre realtà sociali di tutti i paesi ci fu un periodo in cui Partinico venne completamente dimenticato, eccetera, anche perché per le guerre che c'erano in testine, ecco anche tra francesi, aragonese, eccetera, venne dimenticato. Dal 1500 in poi, ecco, Partinico rinasce e rinasce con la buona volontà soprattutto della presenza religiosa, non c'è dubbio, una presenza religiosa che si sviluppò sempre attorno al santuario della Madonna del Ponte. Voi state provando a tramandare qualche cosa, ma per non dimenticare in un prossimo futuro cosa c'è da fare? Si fa poco. Io quando insegnavo alla scuola media, soprattutto dedicavo molto spazio a raccontare la storia di Partinico e dal punto di vista civile, soprattutto dal punto di vista religioso, in modo particolare la storia della Madonna del Ponte. Lo facevo. Si dovrebbe fare molto di più anche nelle nostre parrocchie, insegnare ai ragazzi, ai giovani la storia del proprio paese. Chiudiamo parlando di sport, di auto, perché torna il rally nel territorio partinicese. Si disputerà domani la prima edizione del rally dei Terre di Bacco, manifestazione organizzata dalla scuderia PS Start. Si svolge a Partinico, interessati al percorso di gara, anche ai territori di Borgetto, Montelepra e Giardinello. Oggi pomeriggio le verifiche. La nostra emittente riprenderà in esclusiva il rally. E chiaramente poi vi mostreremo quanto succederà in questa bella gara sportiva tramite i nostri teleschermi. Partinico torna ad essere teatro di rally. Si corre infatti domani la prima edizione del rally dei Terre di Bacco. Saranno 50 gli equipaggi che si sfideranno sui tre passaggi delle prove speciali di Alivito e Valguarnera. La manifestazione, organizzata dalla scuderia PS Start, oggi pomeriggio a Partinico presso il Barreale, effettuerà le operazioni di verifica delle vetture. Domenica, sempre a Partinico, dalle 10, la partenza delle auto. Mauro Cacioppo e Gerlando Montana Lampo, con la loro Mitsubishi Lancer Evo X, saranno i primi a scendere dal palco di partenza, posto in corso dei mille. Sempre nella stessa classe, la N4, ma con una Lancer Evo 6, ci saranno Onofrio Buttitta e Luigi Aliberto. Ben quattro saranno le Super 1600 in astri di partenza, una categoria dalla quale potrebbero venire fuori i nomi dei vincitori. Alle due Fiat Punto Abarth, portate in gara dagli equipaggi Alioto Mangano e Pellitteri Ravetto, faranno da contraltare le due Renault Clio affidate ai giovani Marco Pollara e Salvatore Campione, navigati rispettivamente da Marco Pollicino e Saro Pendolino. In gruppo R, con due Renault New Clio, ci saranno altri due equipaggi favoriti per la vittoria finale. Filippo Vara, in gara con Gianfranco Rappa, e Pierluigi Truppiano, che dividerà l'abitacolo con Donato Turra. L'arrivo della manifestazione è previsto domenica alle 17, sempre in corso dei mille a Partenico. Dopo sei speciali, si potranno conoscere quindi i nomi dei vincitori della prima edizione della gara. Riordini e parchi assistenza saranno ubicati presso il centro commerciale La Fontana-Borgetto. Ribadisco a proposito del rally che la nostra emittente riprenderà l'intera manifestazione, quindi poi ve la trasmetteremo. Vi ringrazio per aver scelto il nostro TG. Vi ricordo che la normale programmazione si riprenderà lunedì, come sempre, alle 14 con l'anteprima. Vi auguro una serena domenica. Vi ringrazio per aver scelto il nostro TG.